Partiamo subito con una frase fantastica pronunciata proprio ieri dal nostro Presidente del Consiglio che si trovava a Dubai per una visita, pare che sia andato lì per cercare investimenti stranieri da portare nel nostro paese. Insomma, Monti non riesce a stare mai una settimana in Italia fisso. Io credo che farebbe difficoltà, se noi lo interrogassimo su alcuni posti in Italia, dove è questa città, dove è quest'altro, forse avrebbe delle difficoltà, soprattutto dal centro-sud in poi, dal centro in poi, verso il sud, che credo che conosca poco dei nostri paesi. Un Presidente del Consiglio dovrebbe avere un rapporto molto più stretto con i propri cittadini e soprattutto dovrebbe essere letto, cosa di cui parleremo più tardi. Il nostro Presidente del Consiglio dice questo. Con il lavoro degli ultimi 12 mesi abbiamo evitato il disastro totale e ora l'area dell'euro sta superando la sua crisi. Lo ha detto il Premier Mario Monti a Dubai spiegando in un incontro alla Camera di Commercio che negli ultimi 12 mesi dovevamo spegnere l'incendio della casa, che era la priorità. Non potevamo accendere un altro focolaio in Europa. L'ultima parte dell'affermazione è presto spiegata perché naturalmente l'Europa rappresenta il vero freno alla crescita del paese perché, lo abbiamo detto più volte, la Merkel, la signora Merkel, la Germania, altri paesi del nord come la Finlandia, anche paesi molto meno importanti del nostro, non vogliono che si stampi moneta, non vogliono che la BCE faccia il prestatore di ultime istanze e che sostenga i titoli del debito pubblico, cosa che ci ha detto il professore Amoroso a maggio, ce l'ha ripetuto il nostro caro Filippo Abate nella puntata del 5 ottobre e ce l'ha ripetuto anche l'autorevolissimo professor Cesaratto nella puntata andata in onda il 18 ottobre scorso. Quindi la situazione è assolutamente che Monti non può fare nulla perché se i titoli di debito pubblico non vengono sostenuti dalla Banca Centrale Europea che non fa nulla se non quello di mantenere bassa l'inflazione, ma abbiamo visto che non serve per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Per quanto riguarda la frase di Monti, io credo che Monti non abbia ben presente quello che il nostro paese sta attraversando in termini di crisi economica perché non so, più disastro di così, il PIL è andato giù del 2,5%, questi sono dati ufficiali e poi nella prossima puntata, anzi vi annuncio proprio una cosa che prima della fine dell'anno faremo una puntata speciale, due ore solo su Monti e sulle sue gaffe, sui suoi errori, sulle promesse non mantenute. Per esempio io ricordo un'intervista che purtroppo, cari amici, non riesco a trovare perché faccio un'altra attività e non mi posso occupare proprio unicamente di questo, ma non riesco a trovare una sua intervista dove lui addirittura parlava di un aumento del PIL già da quest'anno. Io questo ce l'ho, l'ho vista, quindi devo solamente trovare l'intervista su YouTube da qualche parte, chiederò a qualche collega, me la farò mandare e così il signor Monti verrà sbugiardato. Al di là di questo, un calo del quasi 3% perché alla fine, non è finito l'anno, dal 2,5% pare, anche i professori che abbiamo interrogato ce l'hanno detto, che potrebbe arrivare al 3%. Ora un calo del 3% del PIL è una cosa gravissima. Vogliamo parlare dei suicidi? Non ne parliamo perché è meglio rispetto per le persone che magari alcuni sono anche in onda, sono anche all'ascolto, hanno situazioni particolari. Suicidi ogni giorno, situazioni gravissime, familiari dovute alla crisi economica. Lo spread non è migliorato per niente, nel senso che è stato quasi sempre sopra i 400 punti nella media dell'anno. Addirittura quest'estate, prima dell'incontro, prima della frase celebre di Draghi, che faremo tutto il possibile, poi i mercati si sono un po' tranquillizzati, era arrivato addirittura a 540 punti, quindi quasi quello che aveva lasciato il precedente governo. Con la differenza che noi in un anno abbiamo subito delle manovre pesantissime. Parliamo della prima di oltre 25 miliardi, per poi la spending review, o review come si chiama, e anche l'ultima che è stata abbastanza, secondo me, pesante, perché sono stati dei tagli alla sanità. E in più l'augmento dell'IVA dal 21 al 22% dal luglio del prossimo anno, quindi tra poco meno di 8 mesi. Quindi, cari amici imprenditori, cari amici avvocati, liberi professionisti, preparatevi ad avere una botta tremenda, perché il 22% di IVA sicuramente farà far sì che, ovviamente, molti prezzi aumenteranno, le prestazioni di molti professionisti aumenteranno, quelli che pagano le tasse. E poi io mi chiedo, se si vuole combattere l'evasione, sicuramente non è un modo quello di combattere l'evasione, è quello di ammazzarti di tasse. Cioè io ti metto più tasse possibili, in modo tale che tu poi sei costretto a evadere. Ovviamente questa non è un'apologia dell'evasione, né una difesa dell'evasione. Però, naturalmente, se un cittadino non ce la fa da mandare avanti la sua azienda, può capitare, è capitato in passato ad alcuni, che possa essere spinto ad evadere. Ragion per cui, politica del governo disastrosa. Io non so, per totale disastro, Monti, cosa volesse indicare. Cioè, forse i cararmati che venivano a invaderci, oppure, non lo so, l'invasione di una potenza straniera nel nostro territorio. Non so, il disastro totale. Quindi non fatevi mai impaurire da queste frasi che hanno ben poco sentito. Disastro totale. Che cosa vuol dire disastro totale? Non ci sarebbe stato nessun disastro totale. Siamo già nel disastro totale. Molti di noi non ce ne rendiamo conto perché abbiamo uno stile di vita importante, buono, ancora siamo dei privilegiati, ma la gran parte degli italiani se ne sono resi conto e stanno soffrendo. Ragion per cui Monti dovrebbe evitare assolutamente queste affermazioni perché, oltre che sono ridicole, sono offensive nei confronti dei cittadini che stanno soffrendo per portare un pezzo di pane a casa tutti i giorni. Grazie.